Volevo semplicemente dire come viene fatta una segnalazione di reazione avversa. Io le trascrivo, le invio all'AIFA direttamente e so benissimo che anche se un evento avverso grave è avvenuto a 14 giorni e un minuto dalla somministrazione del vaccino, per protocollo, non per negligenza dei medici che hanno, io ho sentito dire, hanno nascosto. Non voglio dire questo, magari c'è qualcuno che l'ha anche fatto, però è proprio il protocollo che va contestato. Perché il protocollo dell'AIFA, della segnalazione di reazione avversa, prevede che se un evento avverso avviene dopo 14 giorni dalla somministrazione, la correlazione, anche se fosse palese, non può essere esplicitata. Senza base scientifica? Ho preso insomma in carico il paziente, cercando di ricostruire la cronologia dei fatti e degli eventi clinici avvenuti, che molti suoi colleghi somministravano il Tricorti nel Bentelan a scopo precauzionale, anche con un tumore in corso. Sì, sì. Che è stata a curare e non si è vaccinata ed è stata sospesa. Molti colleghi medici che non si sono vaccinati e che non hanno aderito alla campagna vaccinale sono stati sospesi.